Ciao a tutti, oggi siamo con il signor Mauro Pancrazzi. Dobbiamo fare un paesaggio tipico della Toscana, giusto? Sì, è possibile rappresentare il classico paesaggio toscano dove ci sono le case un po' caratteristiche, gli alberi cipressi, le colline, non le colline da punta ma quelle colline stondate, del tipico senese. Perfetto, quindi noi oggi faremo questo, vi faremo vedere un po' come lavoriamo e alla fine vedremo il risultato. Sono molto curioso, veramente sono molto curioso. E documenteremo tutto. Grazie. Perfetto. Ora metteremo l'aggrappante che è un prodotto che serve per proteggere la parete e creare uno strato di protezione. Abbiamo dato l'aggrappante in tutta la parete. E' importantissimo per far aderire bene la pittura che adesso daremo come fondo. Questo è il progetto. Adesso lo facciamo vedere a Mauro. Bene, adesso stiamo dando la prima mano di pittura. Allora Leo? Tutto apposta a Ferragosso, qua si va avanti, si vola. 130. Un minuto di relax e poi continuiamo. Poi si continua. La briochina fatta da Dani. Grazie Dani. Sponsor. Bene ragazzi, abbiamo pitturato tutta la parete. Per fortuna sta già asciugando. Abbiamo usato una pittura al quarzo per esterni, così con il tempo, le interperie eccetera dura di più. Adesso inizieremo da questa parete e questa. Adesso inizieremo da questa parete. Ciao Leo, come è andata? Stanchi morti. Anche se sono solo le 5 è già buio, però K.O. Per adesso abbiamo fatto questo e tutto questo. Domani continuiamo. Bene raga, oggi secondo giorno e si ricomincia. Qui stiamo iniziando una nuova parte, però la strada è ancora abbastanza lunga. K.O. Come. E? E? Vؤilte. Le uniamo. bene ragazzi abbiamo finito anche questo murales dita mani taglia questo lo tagli, pirla dai, tanto tagli tutto qua vero? niente dai ci erano divertiti sono stati due giorni belli intensi no ci erano divertiti, è bello la toscana, l'area della toscana, ma che bel murales, ma che cazzo dirmi facciamo vedere il murales? vai vai a vedere il murales, tanto tagli tutto, presentalo e niente qua i colori della toscana, un bel paesaggio della toscana tipico, con le casettine come si chiamavano? gli alberelli tipici toscani, poi le balle di fieno, poi guarda qua i gabbiani i gabbiani in toscana, i bacellini, poi la casettina particolare, gli alberelli, guarda che bella la chiesetta, la chiesetta, le balle di fieno, non ci erano fatti di bancar niente, il cagnolino guarda qua, ti presento la cagnolina, zara mi sembra che si chiama male, e niente puntino facciamo vedere anche questo pezzo dove ti immergi nella toscana ti immergi nella toscana ti immergi ti immergi ti immergi ti immergi lavoro finito se vi è piaciuto questo video mettete like e iscrivetevi, sennò vi vengo a prendere a casa, capito? ciao ciao Grazie a tutti